E si è compiuto oggi l'ultimo atto del primo campionato per la formazione del personale interno tecnico operativo sulla salute e sicurezza sul lavoro organizzato da Centri SRL con la proclamazione dei vincitori e con una giornata di discussione proprio sul valore della sicurezza. Sentiamo le parole dell'amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi. Siamo assolutamente convinti che la qualità del servizio che eroghiamo verso i cittadini deve essere accompagnato dalla grandissima attenzione alla sicurezza del lavoro perché facciamo un lavoro complicato, distribuiamo gas e quindi le norme di sicurezza, le modalità con cui si dà questo servizio devono essere al massimo dell'eccellenza. Quindi la giornata di oggi è un riassunto di quello che abbiamo fatto in questi anni, abbiamo motivato i dipendenti rendendoli più consapevoli, ovviamente ci siamo avvalsi di competenze esterne, di modalità che si applicano nelle parti più evolute del mondo, apprendendo quelle cose che ci mancavano e devo dire che il risultato è davvero straordinario. Abbiamo fatto migliaia di ore di formazione, esperimenti, modalità di lavorare in squadra molto evolute, con tecniche, ripeto, molto avanzate e studiate nelle migliori università. Quindi questo credo sia un'altra delle caratteristiche di Estra che appunto non si contenta del giorno per giorno ma prova a configurare il proprio futuro, il proprio rapporto con i clienti basato anche sul sistema di sicurezza.